martedì sera la grande musica di r101 in questo momento in collegamento via skype con l'uomo che devo dire dopo il mio fidanzato è colui che mi ricorda di più l'estate 2019 che detto così sembra anche una cosa equivoca ma ne sono felicissima fredde palma ciao buonasera ciao come stai tutto molto bene tutto molto bene sei tu davvero eravamo guarda ti racconto anche la scena ortigia sicilia 2019 d'estate io edoardo il mio ragazzo e alcuni amici in macchina a ballare a cantare a urlare una volta ancora è stata comunque la colonna sonora di quell'estate un po per tante persone anche visti i numeri che ha fatto è stato veramente un momento storico proprio questa canzone secondo me ti capita che qualcuno che conosci o magari gente che non conosci via instagram per strada non lo so ti racconti di un ricordo legato a una tua canzone un'estate ma visto visto la pandemia comunque vedo poche persone al di fuori della cerchia stretta dei miei collaboratori no perché comunque sai in questo periodo è così però su instagram nei dm mi scrivono tantissimi ma non soltanto una volta ancora ma un po a tante mie canzoni che comunque hanno significato per loro qualcosa in un periodo particolare quindi diciamo che sono pieno di queste di queste storie di questi ricordi anche di persone che si sono fidanzate con le mie canzoni o che appunto le mie magari una mia canzone li ricorda il ragazzo con cui stavano anche se li sono lasciati eccetera sei l'ufficiante sei il testimone delle cose che nascono guarda che è una cosa bellissima questa tu prima hai parlato comunque in estate succede sempre no e il periodo dell'anno anche più cioè che predispone di più a conoscere nuove persone con l'ormone ballerino che balla ovviamente sul ritmo reggaeton ci sta tu hai parlato di numeri e vabbè ovviamente ce li ho qui davanti una volta ancora sei volte platino in italia mentre la versione spagnola ti ha consacrato come unico italiano a raggiungere la certificazione di quinto disco di platino poi citiamo paloma dell'anno scorso doppio platino fammi fare due conti cinque più sei più due tredici dischi dove li metti ti sono già arrivati dove ce li hai io ho dovuto comprare un'altra casa perché i muri erano pieni ho preso una casa solo per i platini no scherzo no sono sono molto contento di questi risultati e sto lavorando comunque tutti i giorni per cercare di superarmi anche se appunto leggendo i numeri quando quando mi dicono i numeri ovviamente sai non è che ci penso sempre però sono comunque molto alti però insomma sto cercando di fare qualcosa qualcosa di nuovo questo questo sound reggaeton portarlo in italia a spiegare la cultura che c'è dietro che non è soltanto la canzone estiva eccetera eccetera comunque è un lavoro che è veramente molto importante visto quello che voglio fare prima fuori onda ti ho chiesto se stai lavorando chiaramente all'album a che punto è ti ho chiesto poi che suoni ci sono perché ovviamente mi aspettavo il reggaeton però te l'ho chiesto sì ovvio e ovvio e meno male come dici tu creiamo un percorso per sdoganare la cultura del reggaeton ma mi chiedevo anche come lo lavori cioè tu ascolti solo musica reggaeton ascolti altri dischi e poi ti viene in mente l'idea come nasce il allora prevalentemente adesso sono proprio diventato un ascoltatore ci ascolto praticamente solo musica reggaeton però comunque non solo reggaeton cioè comunque di ispirazione latina sicuramente c'è tutto quello che arriva dal dal messico dalla colombia da maiemi no tutto quello che un po si respira in quei posti là tutto quello che esce no dal porto rico eccetera quindi tutti artisti comunque latini che fanno reggaeton però ovviamente non ascolto solo quello ascolto anche altre cose però più di rado devo essere sincero e quindi poi lì ti metti a lavorare che meraviglia sì diciamo che essendoci anche stato comunque in colombia maiemi ho anche proprio respirato l'aria no di quello che succede veramente dove nascono poi le mondiali e avendo anche collaborato con alcuni dei maggiori esponenti di questa musica nel mondo diciamo che ho capito tante cose che prima potevo immaginare ascoltando le canzoni invece essendo lì proprio sul campo capisci veramente dei meccanismi che sono molto diversi da quelli italiani sai che pensavo e con questa ti saluto così lanciamo anche il disco che è uscito da qualche giorno lo stiamo pompando in radio meravigliosamente penso che sia anche un po il karma vedere la tua faccia così sorridente confortante proprio una di quelle che tu dici spiaggia cocktail sole tramonto dai quell'impressione lì non è secondo me un caso che sia associata a questo percorso di reggaeton volevo solo dirti che è piacevolissimo seguirti anche per questo grazie mille un abbraccio grande dimmi dimmi vai così ci salutiamo no 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 dicevo appunto grazie sì spero che appunto questa mia visione diventi sempre più reale che nei prossimi anni ci sia una vera e propria scena reggaeton in italia e che appunto questo genere abbia il rispetto che merita come in tutto il resto del mondo buon lavoro caro fred ti riaspettiamo fisicamente negli studi di r101 ora ci godiamo presto il tuo nuovo singolo ti raggiungerò ti bacio ciao bacio ciao